Le favole di Jacopo Nino il contadino Nino il contadino seminava gentilezza, ma agli occhi di tutti il risultato del suo raccolto era una vera schifezza. Un giorno un agricoltore confinante gli domandò Chi te lo fa fare se non ne ricavi nemmeno un grazie? E Nino il contadino rispose Io non spargo gentilezza per raccoglierne i frutti Io la spargo per rendere fertile il terreno su cui camminiamo tutti. Le favole di Jacopo